Quando il patrimonio di un partito è fatto anche dal suo passato. 60 anni di partito radicale attraverso i manifesti, le foto, le bandiere, i libri del mondo di Pannunzio sono i documenti che hanno fatto la storia del movimento. Marco Pannella ed Emma Bonino, le due anime del partito più longevo d'Italia, sono i due testimonial del video che presenta l'asta organizzata per celebrare l'importante compleanno ma anche per autofinanziare radicali. Ecco l'invito ad acquistare i cimeli delle battaglie degli anni 70, 80, 90, i diritti umani, la legalità, la pace, la contrapposizione non violenta. Vi diamo e ci diamo l'occasione di conservare, trasmettere e accudire delle pagine e delle ore di storia, dice Pannella. Per la Bonino è un modo per ricordare le vittorie passate e dare forza a quelle presenti e a quelle che si stanno preparando. Molti di questi cimeli ci sono stati regalati proprio dalle compagne e i compagni radicali in tutta Italia proprio per finanziare il partito radicale. Provocatoriamente la Bernardini mette all'asta anche una piantina di marijuana.